Do il bentornato finalmente alla dottor Gabriele Benedetto che ci ha portato anche sua moglie Annis benvenuta anche a te cara Annis perché finalmente in presenza il dottor Benedetti ci farà vedere dei trattamenti davvero utili per chi soffre di mal di schiena che ai noi colpisce un po' tutti noi una volta nella vita abbiamo accusato questo dolore così invalidante e proprio da qua vorrei partire caro Gabriele perché tutti soffriamo di mal di schiena? Perché pensa Monica tutte le cause del mal di schiena hanno origine posizionale posturale quando parliamo di postura vedi io questa colonna e questa base che è appunto il suo bacino e quando parlo di postura abbiamo delle modifiche che la nostra colonna può fare come in questo caso e ovviamente quando ad una curvatura della colonna abbiamo questa situazione e si crea poi un compenso del bacino e di scrocchio anche quando è solo il modellino ormai qualunque cosa tocco scrocchia è questo infatti ho detto aia aia già solo col modellino però per farti capire quindi come noi andremo a fare dei compensi che spesso si dice antalgici cioè per non sentire dolore quindi io magari vado da questo lato ho il dolore e il bacino andrà a compensare faremo dei trattamenti su Annis allora Gabriele, il dottor Gabriele Benetti metterà le mani su Annis che è sua moglie per cui non ci scrivete come mai loro sono vicini no, sono marito e moglie per cui possono stare vicini io sono molto distanziata, non ho la mascherina proprio per questo mi raccomando, sottolineo, non sono da un minacata esatto, per cui sono stati tranquilli esatto, allora iniziamo subito a capire come viene perché prima di fare il trattamento deve essere valutato un paziente è vero Gabriele? assolutamente sì e oggi come ti dicevo prenderò molto in esame il bacino che sarà proprio il ruolo chiave diciamo della nostra puntata questo perché io ho già visitato Annis con un'inclinazione della colonna da un lato vado a percepire dove può ruotare il bacino e quando parlo di rotazione lo possiamo vedere anche con il nostro Johnny che poi mi è mancato perché è un po' che non lo vedevo in diretta comunque sia ci possono essere delle rotazioni molto più diciamo proprio da spiegare perché spesso molti pazienti dicono ma io ho il bacino spostato, ce l'ho su, giù in realtà il bacino non è che venga realmente su a meno che non ci sia un forte trauma ma ci sono delle rotazioni che il bacino fa e quando il bacino ruota in avanti allunga la gamba se ruota indietro l'accorcia e questo lo faremo proprio su Annis adesso? lo vediamo su Annis infatti adesso vado a valutare la lunghezza delle gambe di Annis che in realtà sono lunghe o uguali ma in base a questa rotazione del bacino potremmo avere una lunghezza diversa che vado a valutare un attimino in questo caso prendo in esame i malleuli e vedo come questo malleulo che noi abbiamo a destra quindi io lo vado a segnare con la penna blu dall'altra parte Gabriele così lo vedo le due te le farò vedere così perché adesso li metterò praticamente in linea per far vedere come questa gamba sia più corta rispetto all'altra lo puoi segnare anche esternamente perché se no a casa non è faccio vedere anche esternamente esatto così tranquilla che si cancella non è quello indelebile tranquilla allora che cosa faccio adesso questa gamba è più corta quindi andrò a sbloccare questo bacino portandolo avanti quindi andrò ad allungare la gamba e lo vedremo subito quindi un primo test un trattamento e poi rivedremo la differenza tra il prima e il dopo lascia di cadere rilassatissima brava morbida morbida le gambe lascia le cadere anche se cadono fuori va bene brava benissimo morbida morbida lascia cadere le gambe brava e questo abbiamo fatto il test questo è un test o un trattamento? questo è già test trattamento perché io penso così ho già spostato in avanti la gamba vado a rivalutare con il secondo test quindi il causa effetto il prima e il dopo e vado a mettere vicine le gambe che in questo caso si toccano perfettamente perché ho allungato questa gamba quindi significa che io vado a modificare già la base della nostra colonna ovvero se io arrivo a studio medico praticamente così già metto a posto il bacino così da poter lavorare adesso invece sulla colonna sulla colonna allora vediamo subito ecco vediamo subito allora il trattamento abbiamo visto il test test e trattamento che è già un trattamento il test che abbiamo fatto e adesso il vero e proprio trattamento esatto perché adesso finalmente mi rivolgo invece alla colonna quindi sistemata la base andiamo a sistemare la colonna gira da questo lato benissimo stendi le gambe vedi che do molti piccoli comandi al paziente perché il paziente deve rilassarsi completamente si deve abbandonare completamente le tue mani esatto perché molti pazienti vogliono aiutarmi dottore che faccio no no rilassati perché sono io che vado vedi al millimetro a prendere i punti che mi servono in questo caso sono sulle prime vertebre lombari ok quindi dove ho la mano è il livello lombare quindi la schiena leggermente più alto dove ho individuato il compenso quindi che abbiamo con anni se lasciati cadere con le gambe rilassatissima brava lascia cadere le gambe vedi che le gambe rimangono in tensione perché non è facile abbandonarsi brava lascia cadere le gambe benissimo più rilassata che puoi lasciati cadere fuori benissimo abbandonati ed eccolo qua e questo è l'altro trattamento tutto a posto Anis sì che poi non è abituato tu immagina che lei è molto spaventata di solito quindi per me non è l'ideale lavorare con lei quindi proprio ti dà l'esempio di come un paziente che più o meno ha paura quindi è molto teso facciamo anche un ambiente televisivo è normale che sia tesa piano piano io riesco comunque a fare poi quello che serve per fortuna esatto allora parliamo anche degli altri trattamenti ci sono anche altri trattamenti che possiamo far vedere questi trattamenti che hai visto adesso erano entrambi in trust ovvero in manipolazione quindi i famosi scrocchietti che io faccio per riposizionare i vertebre e in questo caso anche il bacino sono piuttosto vedi forti da vedere però molto delicati e precisi ci mettiamo a pancia in giù Anis brava girati giù benissimo questo è un trattamento molto importante senza lo scrocchio senza il trust che però vorrei farvi vedere bene perché è quello con cui io tratto tutti i dolori più acuti di mal di schiena quindi dalle ernie dalle discopatie le protusioni più forti al famoso colpo della strega quando ci sdraiamo sul divano ci sediamo sul divano e poi non abbiamo più possibilità di rialzarci rimaniamo addirittura bloccati che è uno dei dolori più diffusi insomma più diffusi pericolosi perché poi spesso è sintomo di un qualcosa di più serio quindi magari pensiamo ah mi sono bloccato con la schiena e magari dietro c'è un'ernia quindi potremmo essere già su un territorio neurologico e quando parlo appunto di neurologia abbiamo vedi una colonna completamente bianca e poi però delle strutture che sono gialle che si vedono bene vedi eccole qua questi sono i nervi dalla vertebra noi abbiamo la fuoriuscita della radice nervosa normalmente che cosa succede che hai visto quando si parla di lordosi la lordosi normale è una curva normale della nostra colonna lì per lordosi invece è un'accentuazione di questa curva e quando vado a fare guarda ti faccio vedere questa accentuazione quindi esattamente qua dove ho il dito vado a schiacciare completamente la parte posteriore dove c'è il nervo e noi dobbiamo invece cercare di disallineare esatto quindi andrò a delordosizzare facendo questo farò vedi questo tipo di spinta ad aprire e a creare lo spazio che adesso vedrai facciamolo vedere su Annis adesso Annis rilassati la spinta è questa vedi guarda che cosa fa la mia mano parte da questa posizione e porto in bascola il sacro quindi portandolo più basso possibile questo è il punto di compressione qui sono in compressione qua mi allontano spinta tu ti rilassi e faccio e il paziente non sente dolore non sente dolore assolutamente non c'è mai dolore di quanti trattamenti abbiamo bisogno Gabriele? allora normalmente per una situazione acuta quindi il paziente che arriva bloccato con forte dolore anche un solo trattamento già cambia dell'80% la situazione un secondo trattamento quindi già chiuderebbe tutta la situazione di solito faccio due massimo tre trattamenti in un anno in un anno significa che magari due acuti immediatamente e poi ogni sei mesi ne faccio un altro esatto grazie a dottor Gabriele Benedetti grazie caro Gabriele grazie ovviamente ad Annis grazie di cuore grazie a tutti ieri